E' stato definito il cardinale a due ruote, Philippe Barbarenne, per la sua grande passione per il ciclismo. Anche durante le congregazioni generali pre-conclave attraversava Roma con la sua bicicletta. Nato in Marocco nel 1950, Barbarenne ha studiato alla prestigiosa Università Francese della Sorbona. Laureato in filosofia, è entrato nel 1973 in seminario dei Carmelitani, dove ha ottenuto la laurea in teologia. Ordinato diacono nella Pentecoste nel 1976 e sacerdote nel 77, ha ricoperto diversi incarichi in Francia e Madagascar, fino al 1 ottobre del 1998, quando Papa Giovanni Paolo II lo nomina Vescovo di Moulin. Diventa poi Cavaliere della Legione d'Onore, Cancelliere dell'Università Cattolica di Lione e membro della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, le Società di Vita Apostolica. Nel concistoro del 21 ottobre del 2003 viene ordinato il cardinale da Papa Wojtyla. Laura Ceccherini, SkyTG24